Do subito il benvenuto al nostro primo ospite di questo pomeriggio, Vito Torito, Lead Quantitative Analyst S&P Global Plus. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio a voi. Ecco, partiamo naturalmente con un commento della situazione macro che ci circonda. Stiamo vedendo un miglioramento netto in Italia, anche inflazione bella abbondante all'interno dell'Eurozona. Tanto è che Christine Lagarde non ha escluso il rialzo dei tassi, una cosa che decisamente ha sorpreso i mercati. E Bostick, che un governatore federale, credo di Atlanta, ha confermato qualche minuto fa che probabilmente ci saranno almeno tre rialzi dei tassi all'interno del 2022, scusate, non 2021. Quindi, giusto per capirci, è corretto, sono un po' indietro le banche centrali o diciamo che l'ambito in cui ci troviamo è talmente volatile, talmente incerto che bisogna navigare con tanta attenzione? Ma diciamo che le banche centrali hanno lavorato utilizzando quelli che sono i loro strumenti e generalmente le banche centrali non lavorano mai sulla volatilità di breve termine, ma tendono quasi sempre a lavorare su quella che è la volatilità dei mercati di medio e lungo termine. La stessa identica cosa chiaramente vale per l'inflazione, che loro monitorano in maniera estremamente minuziosa, proprio perché il loro obiettivo è di mantenerla al di sotto, ma vicina al 2%. Detto ciò, per lungo tempo sia la Federal Reserve che la European Central Bank hanno dichiarato che quelli che erano i fattori drivers dell'alta inflazione erano di carattere temporaneo e che quindi dovevano essere monitorati, ma che non era necessario alzare i tassi prima. Stiamo parlando del 2021. Adesso però abbiamo un'inflazione che in Europa ha raggiunto il picco negli ultimi 31 anni, mentre questo picco negli Stati Uniti è stato toccato qualche mese fa nel quarto trimestre del 2021. Ovviamente la situazione diventa un po' particolare perché quando l'inflazione cresce troppo incomincia a creare problemi di carattere notevole, soprattutto al comparto industriale, perché sia per quanto riguarda gli investimenti va a erodere quello che è il potere d'acquisto di molti individui che percepiscono uno stipendio fisso o comunque coloro che prendono per esempio la pensione. E dallo stesso tempo ovviamente va a creare un problema dal punto di vista industriale perché l'aumento dell'inflazione che aumenta chiaramente i prezzi di quelli che sono gli input, tutto quello che viene utilizzato a livello industriale per la produzione, questo rende più difficoltoso produrre appunto i beni di consumo che vengono automaticamente prodotti dal comparto industriale, rendendo il tutto più costoso e ovviamente il tutto più difficile. Pertanto sono arrivati a un punto in cui non possono più chiaramente menare il camperlaia e quindi quello che stanno facendo è aumentare la pressione dal punto di vista dei media per avvisare che tra qualche tempo i tassi verranno inevitabilmente rialzati. La Fed è più chiaramente okish in questo senso, si parla di due o tre ritocchi al rialzo del tasso di interesse, ci sono addirittura alcune persone, alcuni sostenitori di un numero di rialzi pari a 5 o addirittura 6, a mio modestissimo parere credo sia eccessivo come aspettativa, credo che saremo in 2, 3 forse 4 rialzi massimo, il resto verrà visto nel 2023, stiamo parlando della Fed. La European Central Bank invece credo che sarà molto più lenta nel reagire, ma questo è dato prevalentemente dal fatto che l'Europa è un comparto economico diverso da quello degli Stati Uniti perché l'Europa è meno omogenea dal punto di vista della crescita economica degli Stati Uniti, non è ancora a quel livello proprio perché l'Unione Europea si è storicamente fondata dopo, quindi i mercati sono meno omogenei e quindi molto probabilmente l'European Central Bank tenderà, se mai, ad alzare il primo tasso di interesse, si parla del quarto trimestre del 2023. È molto difficile che un innalzamento dell'European Central Bank dei tassi di interesse avvenga prima del quarto trimestre, a meno che l'inflazione dovesse crescere ancora di più e diventare ancora più alta di quello che è adesso. Assolutamente sì, concordo ovviamente l'Unione Europea è molto più diversa perché ovviamente ciascun paese è estremamente diverso in termini di ripresa, in termini di inflazione, occupazione e così via. Nel frattempo però all'interno almeno dell'Eurozona uno dei contributor principali in termini di inflazione è proprio il prezzo dell'energia. Il governo intanto si prepara domani a proporre in CDM un nuovo piano per allentare. Ecco questo caro Bolete che mette in difficoltà tantissime famiglie, ma soprattutto le imprese, specie le piccole e medie imprese. Giusto per capirci, questo trend per quanto concerne il caro e il prezzo dell'energia, a tuo avviso potrebbe continuare anche per l'intero 2022, anche se le banche centrali forse sperano, non so se prevedono perché le loro operazioni ultimamente non sono troppo precise, però forse sperano che ci sarà un abbassamento dei prezzi sia petrolio che gas naturale. In questo momento la situazione, non dico critica, ma sicuramente particolarmente difficile da analizzare perché non c'è un solo driver dei prezzi, ce ne sono tanti. In realtà le tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina hanno sicuramente, inevitabilmente, contribuito al rialzo dei prezzi nel comparto energetico. Brent, WTI, gas naturale, sono tutti chiaramente fortemente al rialzo. Se pensiamo che il Brent prezzava qualcosa come 68 dollari a barile ancora intorno a dicembre, adesso siamo a ridosso dei 90, ovviamente ne ha fatta di strada. È chiaro che c'è un geopolitical risk premium che chiaramente viene prezzato all'interno del comparto energetico, questo viene automaticamente visto, ripeto, nei tre mercati principali, se WTI, il Brent, così come nei mercati del gas, come il Dutch TTF, che è la stessa identica cosa per l'un rehab americano. Sono al rialzo, ovviamente non hanno toccato i picchi di prima, sono comunque scesi rispetto a prima, ma non sono esattamente come erano qualche tempo fa. Diciamo che in questo momento c'è più una situazione di allerta, ma soprattutto nel settore del petrolio, quello che si è visto ora è stato un enorme rialzo, una buying pressure che ha portato a un uptrend, proprio perché l'OPEC ha confermato ancora una volta quella che era la strategia di supply e ovviamente questo ha portato un innalzamento di quella che è stata la buying pressure sia nei confronti del Brent, sia nei confronti del WTI. Alcuni operatori di mercato ci aspettavano una supply molto più elevata, invece sono stati di parola più o meno quelli dell'OPEC che hanno fondamentalmente confermato quella che era la loro strategia iniziale e quindi chiaramente questo ha portato confortevolmente i prezzi al di sopra dei 90 dollari a barile per quanto concerne il Brent, che ha toccato, il dette Brent, il fisico ha toccato credo punte di 94-95 dollari, quindi fondamentalmente ha favorito questa crescita. Ovviamente anche il geopolitical risk, le tensioni quindi tra Russia e Ucraina hanno contribuito a mantenere i prezzi più elevati. Nell'ultimo periodo però, negli ultimi giorni, la buying pressure non poteva continuare all'infinito proprio perché ormai il fattore OPEC era stato già inglobato, era stato già apprezzato dal mercato e quindi quello che è accaduto è stato che gli operatori di mercato hanno incominciato a fare un profit taking, quindi a chiudere le posizioni long e questo ovviamente ha portato a una graduale, se ben costante, downtrend che ha portato ora i prezzi intorno ai 90 dollari a barile e non 93 con punti di 93,5-94 che abbiamo visto sul futures market qualche giorno fa. Al momento però rimane ancora tanta incertezza anche perché c'è un altro fattore da apprezzare, oltre al geopolitical risk, oltre all'OPEC e quindi alla supply, c'è un altro fattore che è inflation hedging. L'alto livello inflazionistico ovviamente costringe molti operatori di mercato, soprattutto i financials, quindi parliamo di asset manager pension funds prima di tutti, a continuare ad investire pesantemente sulle materie prime che tradizionalmente, storicamente, vengono sempre utilizzate come hedge contro l'inflazione. Come ho già detto prima, l'inflazione in Europa è ai massimi da tanti anni, stessa identica cosa per quanto riguarda gli Stati Uniti ed è molto alta anche in Asia, quindi a livello globale l'inflazione rimane ai massimi storici, questo ovviamente costringe molti financials a continuare a arrollare le posizioni di inflation hedging anche nei mesi successivi. Quindi giusto, visto che i prezzi per quanto concerne le materie prime sono sui massimi storici, stiamo vedendo una ripresa anche dei metalli preziosi, alluminio in particolar modo anche sui massimi storici in termini di prezzi, questo trend secondo le vostre previsioni per quanto concerne il petrolio e il gas naturale, specie se andiamo a considerare anche le tensioni tra la Russia e Nato in questo istante, ovviamente a causa ovviamente l'invasione quasi dell'Ucraina, ancora non c'è stata invasione per carità, però forse c'è un desiderio visto che ci sono più o meno 100 mila militari vicino alle frontiere, però ecco dunque considerando anche questi rischi si può già prevedere un altissimo prezzo delle materie prime energetici e metalli preziosi per l'intero 2022? Diciamo che è probabile che per una buona parte dell'anno vedremo i prezzi sia del comparto energetico sia del comparto metallo a un certo livello, tuttavia i prezzi dovrebbero almeno del settore energetico calare pian piano man mano che la supply fondamentalmente quindi da parte dell'OPEC riinizierà a essere più abbondante, questo potrebbe portare a un affievolimento di quelli che sono i prezzi al momento del petrolio, anche perché dovete calcolare che in questo momento ci sono molti operatori di mercato tra cui raffinatori o comunque in generale aziende aeree o compagnie di trasporto che stanno avendo non pochi problemi nell'acquisizione del petrolio perché ovviamente i costi sono molto elevati. Detto ciò dal punto di vista dei metalli assolutamente l'inflation hedging li sta portando a rialzo, tuttavia c'è ancora un grande problema da scontare che è l'omicron e le supply disruption che stanno creando ancora dei ritardi, ancora dei problemi all'approvvigionamento di materie prime che quindi mantengono i prezzi artificialmente alti. Il mercato rimane ancora molto suscettibile a queste cose, motivo per il quale il prezzo dell'oro rimane incredibilmente alto a 1800 dollari a oncia e anche la volatilità, l'impli di volatility sull'oro rimane molto elevata, infatti rimane oltre il 15% contro una media solitamente che è frutto tra il 9 e il 10 e mezzo, che significa che molti operatori di mercato continuano ad acquistare l'oro, l'argento e ovviamente tutto il comparto dei metalli preziosi, ma mentre gli altri metalli, quelli industriali come il rame e l'alluminio, vengono acquistati prevalentemente per inflation hedging. L'oro è in parte utilizzato per coprire il downtrend che in questi giorni si è abbattuto sui mercati azionari, l'altra parte ovviamente è inflation hedging. Tuttavia l'aumento di tutto il comparto energetico e di tutto il comparto dei metalli chiaramente mantiene l'inflazione a livelli molto elevati, quindi fino a quando non vedremo il petrolio riabbassarsi, fino a quando non vedremo i metalli preziosi riabbassarsi in termini di prezzo, molto probabilmente l'inflazione rimarrà alta, ma questo ovviamente dipenderà anche dal modo in cui si operano le banche centrali, perché la politica monetaria più restrittiva che hanno già annunciato dovrebbe portare a una calmierazione dei prezzi nei prossimi mesi. Grazie mille, a Vito Turito, Lead Contate di Vanales S&P Global Plus, grazie e alla prossima occasione, nel frattempo buon lavoro. Buon lavoro, grazie a voi.